E gli italiani sceglieranno di brindare al nuovo anno con vini e spumanti italiani che registrano anche un picco delle esportazioni in servizio. Saranno vini e spumanti italiani a riempire bicchieri nella notte più lunga dell'anno che condizionata dalla sospensione di eventi in piazza e dai timori per la crescita dei contagi dovuti alla pandemia e alla nuova variante Omicron sarà trascorsa dalla maggior parte degli italiani a casa. Lo riferiscono le stime degli organismi di settore. Sulle tavole non mancherà lo spumante italiano con il Moscato tra i più graditi per accompagnare il panettone, un Franciacorta, un Trentodoc per cene a base di pesce e un Prosecco per gli aperitivi. Bianco e dolce, il Moscato è il vino da Dessè per eccellenza dal profumo fruttato, intenso, aromatico, molto persistente e dal sapore dolce con un basso contenuto alcolico. Il Prosecco invece è ottimo servito con verdure pastellate, fritture e formaggi o con pesce crudo come ostriche e scampi. Si tratta di vini e spumanti che premiano le produzioni made in Italy. In questo finale d'anno, secondo l'osservatorio Wim Ismea, si registrerà un aumento dei consumi di spumante del 18,3% sullo scorso anno e del 50% rispetto al 2016. Tre bottiglie su quattro, sostiene l'osservatorio, sono destinati all'estero, mentre 88 milioni finiranno sulle tavole degli italiani durante le feste. Tutte le denominazioni piacciono, si legge nel report, con crescite quasi ovunque in doppia cifra e con aumento dell'export del 20%. Per la prima volta i ricavi superano i 2,4 miliardi di euro, un decennio senza soste con un aumento della produzione del 170%.